Dopo più di un mese di chiusura forzata sono tornati sui banchi gli alunni delle scuole aquilane, fatta eccezione per le superiori che per il momento mantengono il 50% in presenza e il 50% in dad. Per i dirigenti scolastici è quasi come un primo giorno di scuola che si è svolto senza intoppi, anche se come sempre l'istituzione in questo anno di covid ha imparato a orientarsi tra decreti, ordinanze e capacità di aprire e chiudere, anche con comunicazioni dell'ultimo momento. Tutti l'abbiamo vissuto come un ritorno, un inizio di rinascita dopo questo lungo mese. Tenete conto insomma che la scuola dell'infanzia è sempre stata in presenza, la scuola primaria invece ha avuto questo primo mese di didattica a distanza dove comunque abbiamo avuto dei piccoli nuclei di inclusione frequentanti le nostre classi e invece la scuola secondaria di primo grado dove ci troviamo oggi ha avuto già una fase nel mese di novembre e dicembre in cui le classi seconde e terze sono state a casa e si è aggiunto a queste il mese di marzo che è stato un lungo mese. La scuola è sicura perché abbiamo investito tanto nei sistemi di distanziamento con i banchi, con le igienizzazioni, con le sanificazioni. Purtroppo quello che accade fuori per noi è incontrollabile. Credo che la scuola sia un luogo oggi in particolare che quasi tutto il personale scolastico è stato vaccinato, almeno ha avuto la prima dose di vaccino. Io stessa rivendico con orgoglio insomma che sono stata vaccinata e siamo in attesa appunto del secondo vaccino e questa è l'ulteriore speranza che dobbiamo dare ai nostri ragazzi, alle nostre famiglie, al paese tutto. Nessun problema particolare per la viabilità cittadina questa mattina anche perché il comune con la polizia municipale aveva già preso le contromisure soprattutto per la zona di Colle Sapone. Sino al 30 aprile saranno chiusi al transito delle auto alcune strade nella zona del polo scolastico di Acquasanta. Dalle 7.30 alle 9 e dalle 12.30 alle 14 saranno interdette alla circolazione via Acquasanti in alcuni tratti e la via parallela che collega le rotatorie di via Colle Sapone e via Acquasanta. Si potrà utilizzare però il parcheggio pubblico che si trova in via Mezzanotte alle spalle della scuola industriale, un provvedimento che esclude docenti, amministrativi e residenti preso per rendere più snella la circolazione.